La vicenda dei Deorso, ossia delle strutture all'aperto, è in queste ultime settimane al centro delle preoccupazioni dei commercianti sacciansi in relazione al sequestro operato dalle forze di polizia, ma anche alle aspettative legate al nuovo regolamento edilizio che modificherà quello regionale in vigore dallo scorso mese di settembre. Si tratta di due vicende diverse, dichiara oggi l'assessore all'urbanistica Salvino Patti. Purtroppo quello che è successo è che il nuovo regolamento edilizio tipo, calato dalla regione, è in vigore in tutti i comuni siciliani a partire dal 30 settembre del 2022. Quindi di conseguenza ci sono nuovi limiti che sono particolarmente stringenti per alcune situazioni, perché viene introdotto il principio di proporzionalità tra quello che è lo spazio interno e lo spazio esterno. La norma afferma che si può ottenere soltanto il 50% della superficie di somministrazione interna all'esterno, per un minimo sempre garantito di 18 metri quadrati e un massimo di 50 metri quadrati. E quindi questa nuova norma stringente ha fatto sì che molti commercianti, nel momento in cui si sarebbero apprestati a presentare la loro comunicazione di occupazione di risuolo pubblico, avrebbero dovuto appunto rispettare questi limiti stringenti. Con molta probabilità molti commercianti hanno preferito aspettare appunto quello che sta accadendo e che accadrà questa sera, ovvero un aggiornamento tramite degli emendamenti a quella che è la proposta di delibera, e quindi potranno essere superati questi limiti. Noi già in sede di proposte di delibera abbiamo inserito quella che è la deroga estiva a queste superfici, ma sono convinto che appunto ulteriori soluzioni verranno poste in Consiglio Comunale per superare ulteriormente questo limite diciamo particolarmente restrittivo relativamente ai dehors. Il decreto mille proroghe del governo Meloni, dichiara ancora l'assessore Patti, prevede uno snellimento delle procedure. Non è corretto, aggiunge, parlare di blackout o di adesione non pervenuta da parte del Comune di Sciacca. Non è prevista alcuna adesione al decreto mille proroghe, per il semplice motivo che il decreto mille proroghe non fa altro che prorogare appunto delle precedenti norme, sempre nazionali, che semplificavano quella che è la richiesta di occupazione solo pubblico, ma sotto il profilo urbanistico, in particolare veniva superata quella che è l'autorizzazione pasaggistica e configurava l'intervento come un intervento di edilizia libera. Ma questo non significa che non vanno rispettate quelle che sono le normative locali, nella fattispecie il nuovo regolamento di edilizio comunale. Quindi non si può parlare di blackout perché comunque le norme esistevano, la possibilità di occupare solo pubblico, seppur in maniera un po' più limitata, esisteva. E' chiaro che il tempo che c'è voluto per dal 2 settembre, la data in cui questa amministrazione appunto manda la proposta di delibera, poi devo dire che la Commissione è stata molto veloce nel fare un lavoro incredibile in pochissimo tempo, poi però tutta una serie di vicende, anche intendo al Consiglio Comune, hanno fatto sì che si arrivasse alla data odierna. Questo regolamento edilizio che verrà approvato questa sera consentirà quindi tutte queste agevolazioni? E lei chiedo se i tempi poi per ottenere le autorizzazioni ci sono, considerato che siamo già in primavera? La procedura appunto perché il diretto millepror che semplifica molto la procedura è molto veloce, sotto il profilo urbanistico basta una semplice comunicazione. Poi, purché ci siano tutte le carte regola relativamente a tributi eventualmente non versati, la procedura non ha un motivo di credere che non sia una procedura veloce. Quanto riguarda invece il costo dell'occupazione del suolo pubblico? Cambia qualcosa? E' prevista ancora qualche agevolazione rispetto agli anni anche del Covid che hanno consentito? L'ultima agevolazione nazionale è scaduta il 31 marzo 2022. Fino al 31 marzo 2022 non si pagava il suolo pubblico perché appunto lo Stato ristorava i comuni integrando le somme mancanti. Dal 31 marzo 2022 lo Stato non ha più previsto nessun ristoro, quindi dal 31 marzo 2022 è previsto il pagamento del suolo pubblico.